La cementificazione fatta negli anni sul torrente Can Salamone è stata spregiudicata e criminale. Lo ha detto oggi il presidente della regione Nello Musumeci durante un suo sopralluogo a sciacca nei luoghi danneggiati dal maltempo. Solo l'intervento strutturale potrà permettere di superare le criticità del Can Salamone. Altre ipotesi rischiano di essere inutili, così il capo della protezione civile regionale Calogero Foti durante il sopralluogo del presidente Musumeci. Preoccupazione in ordine ai tempi piuttosto lunghi che si prospettano per la messa in sicurezza definitiva del torrente Can Salamone è stata espressa dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti. La situazione ha detto impone interventi immediati. Sulle terme molti hanno fatto campagna elettorale, noi stiamo intervenendo per risolvere il problema. Così il presidente della regione Nello Musumeci che però non si è sbilanciato sui tempi necessari per la riapertura. La Lega di Salvini approda Sciacca, costituito il circolo Saccenze, è preseduto da Vincenzo Catania. Puntiamo a crescere in città, ma verrà fatta un'attenta valutazione delle richieste di adesione al partito, ha dichiarato Catania. Nuova puntata dell'ospite, oggi su Telemonte Cronio, in trasmissione il consigliere comunale Calogero Bono, ex presidente del consiglio comunale e candidato a sindaco nel 2017. Una bella esperienza dice, ma che non ripeterò. Ben ritrovati, una nuova edizione di RMK Notizie. Dal Can Salamone alle strade franate, il presidente della regione Nello Musumeci è stato a Sciacca stamattina per un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dai nubi fragili dello scorso fine settimana. Massimo D'Antoni lo ha intervistato, sentiamo. Ma qui gli interventi non sono di manutenzione, né ordinarie né straordinarie. Qui a Sciacca servono interventi strutturali, bisogna paradossalmente rimuovere quel cemento che è stato versato negli anni 90, in maniera cinica, spregiudicata, devo dire, quasi da criminale. E voglio anche capire se ci sono responsabilità. Così, il presidente della regione Nello Musumeci stamattina a Sciacca, nel corso di uno dei suoi sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite dai nubi fragili dello scorso fine settimana, il governatore, accompagnato da responsabile della protezione civile Calogero Foti, ha incontrato il sindaco Francesca Valenti e ha percorso a piedi l'area Attigo e il torrente Can Salamone, area che da anni, quando si verificano condizioni particolarmente critiche, è soggetta a ripetuti straripamenti che mettono in pericolo la pubblica incolumità. C'è un progetto per un intervento di tipo strutturale dell'importo di circa 10-12 milioni di euro che è stato realizzato nel passato. La prospettiva, naturalmente, è quella di intervenire per metterlo in atto, ma nel frattempo il responsabile regionale della protezione civile Calogero Foti ha detto bisogna soltanto fare ricorso alle iniziative di autoprotezione da parte della cittadinanza, volendo dire evidentemente che gli attesi interventi di pulizia del torrente o dell'eliminazione dei canneti o della vegetazione laterale rischiano di essere insufficienti. Durante il sopralluogo Musumeci ha ragionato con il capo della protezione civile Calogero Foti. Gli abbiamo dato 1.875.000 euro al comune di Sciacca nel 2012 e poi abbiamo dato nel 2010 altre 200.000 euro circa, 150.000 euro e sono state utilizzate per la pulizia. Ma questo è un problema che continuerà ad esserci perché... Perché strutturali danni. Certo, ad un certo punto là si interrompe il canale e la sezione si restringe, quindi è ovvio che l'acqua ricurgita, trova spazio qui e inizia ad uscire fuori, non solo qui, ma anche più sopra. Si può riempire la sezione e renderla compatibile? Dobbiamo levare la strada. Si dovrebbe levare la strada. Certo che si deve levare la strada. Noi abbiamo bisogno di capire se questa croce dobbiamo caricarcela soltanto noi siciliani con il nostro governo o se invece un po' di peso vorrà assumerlo anche il governo centrale. E forse oggi riusciremo a saperne di più perché già 20 giorni fa abbiamo dichiarato lo stato di calamità e abbiamo chiesto lo stato di emergenza a Roma e ancora non è arrivata nessuna notizia. In Sicilia mi si dice che oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe deliberare, cerchiamo di capire quale risorsa sarà deliberata e destinata alla Sicilia e in funzione della disponibilità finanziaria programmeremo gli interventi. E' chiaro che tutto il peso non può essere addossato alla regione siciliana che farà certamente la sua parte e la farà subito. Questa situazione la prego di moltiplicarla per 300 e si renderà conto delle condizioni in cui si trova il territorio siciliano, la moltiplichi per 300. Ecco perché mi aspetto da Roma qualche centinaio di milioni di Euro, perché dobbiamo pensare anche alle aziende private, dobbiamo pensare anche alle aziende agricole, alle imprese che sono in ginocchio e che per anni non vedranno un centesimo di reddito. Spero che a Roma ci sia la consapevolezza della gravità, perché un alluvione, una calamità in una regione del nord con un reddito pro capite fra i più alti d'Europa può sembrare anche un graffio. Un alluvione nella regione con il più alto tasso di povertà può diventare il colpo di grazia. Dopo i sopralluoghi di Sciacca, Musumeci ha partecipato ad un incontro organizzato dal sindaco di Ribera Carmelo Pace con gli agricoltori della zona che hanno subito danni gravissimi dall'ennesima esondazione del fiume Verdura. La pubblica incolumità sul Can Salamone la si può garantire attraverso la prudenza dei comportamenti dei cittadini. Nessun intervento che non sia di natura strutturale può risolvere il problema. Lo ha detto il responsabile regionale della protezione civile a margine dell'incontro di oggi alla presenza del governatore Nello Musumeci. L'idea che comunque qualcosa si faccia nel breve termine, che cosa in particolare? Non è necessariamente assumere norme di autoprotezione. I cittadini devono sapere che è una zona ad altissimo rischio e conseguentemente devono assumere tutte quelle azioni a salvaguardia della loro salute e dei loro beni. E la pulizia e gli interventi di manutenzione quindi possono avere un'incidenza assai limitata? Abbastanza limitata. Carlo Gerofoti, responsabile regionale della protezione civile, elenca dunque il tradizionale decalogo dei comportamenti da osservare in caso di nubi fraggio. Esclude così che sia sufficiente l'attesa pulizia del torrente Can Salamone per scongiurare eventuali nuovi pericoli. Perché, a suo giudizio, i pericoli potranno essere eliminati solo con un intervento strutturale a partire dall'eliminazione di strade e opere edili che di fatto impediscono il regolare defluire dall'acqua. Si è assolutamente critica perché sono stati realizzati nel tempo una serie di lavori che hanno ristretto proprio in prossimità della foce la possibilità di recapitare le acque a mare in modo regolare. E, conseguentemente, ogni qualvolta il Can Salamone nella parte canalizzata, indubbata, si restringe anche per la presenza di materiale solido, è chiaro che un fenomeno irrivurgito fa sì che l'acqua, appena trova uno spazio libero, inizia a percorrere quello che era il suo alveo naturale. Sono interventi di 30 anni fa questi? Lo so, io ritengo che sia intorno agli anni 80 che si è iniziato a trasformare in viabilità questo alveo. Secondo Foti, il Comune di Sciacca deve dunque ripartire dal progetto da 10 milioni di euro utile ad effettuare l'atteso intervento infrastrutturale, anche se di milioni adesso ne occorreranno almeno un paio di più. Io penso che oggi dovrebbero essere adeguate e aggiornate, quindi siamo almeno a 12 milioni di euro con tutte le verifiche che devono essere fatte, io penso che però nella parte a monte qualche altra cosa dovrebbe essere esaminata, non mi pare di ricordare che il progetto preveda opere di questo tipo, conseguentemente ritengo che l'importo dell'intervento debba essere incrementato. Fin qui dunque il governatore Nello Musumeci e il capo della protezione civile Calogero Foti, una prospettiva quella dell'intervento strutturale per mettere definitivamente in sicurezza il torrente Can Salamone che sebbene importante al tempo stesso preoccupa il sindaco Francesca Valenti in ordine alla necessità di tempi piuttosto lunghi quando la situazione di emergenza è ormai conclamata. Il punto di vista del primo cittadino in quest'altro servizio. Sindaco, lo stesso presidente della regione con il capo della protezione civile Foti dicono che qui il problema si deve risolvere in maniera strutturale. E questo non è per niente una bella notizia, immaginiamo che sia strutturale però un intervento strutturale, quello di cui si parla è un intervento enorme, no? Perché se noi... Un progetto da 10 milioni si sa. 10 milioni di euro ma addirittura se si parla di ripristinare ciò che è stato deturpato dalla cementificazione significa ovviamente anche uno stravolgimento dell'attuale assetto. Quindi certo non è una soluzione che credo sia praticabile in un termine neanche medio perché è un intervento molto molto importante. Quindi ora il presidente ci ha parlato del tavolo tecnico quindi vedremo poi in sede di tavolo tecnico effettivamente di cosa si sta parlando e soprattutto da dove si deve iniziare. Perché noi abbiamo bisogno anche di un sostegno non dico immediato ma a medio tempo quindi un intervento strutturale, siamo d'accordo però un intervento strutturale che intanto ci permetta di vivere con una maggiore tranquillità. Quando si potrà arrivare alla riapertura? Ci sono anche altri interventi di alcune strade importanti per la città, penso a Via Giovanni XXIII, penso alla zona di Viale Siena. Girgentiacqua ieri ha fatto sapere che sono interventi straordinari e quindi anche loro chiedono un sostegno economico. Sì certo non c'è dubbio, io adesso infatti ho intenzione di portare il presidente a vedere la voragine di Via Giovanni XXIII che è soltanto emblematica di situazioni che abbiamo sparse per il territorio. Questi sono interventi urgentissimi, riguardano tra l'altro le reti miste, fognarie, quindi comunque sono interventi che vanno a tutela della salute del cittadino ancora una volta. I tempi dipenderanno anche dall'arrivo, da quando arriveranno questi fondi, i tempi di ripristino? Non possiamo aspettare i fondi, anche su questo dobbiamo capire quali sono i tempi. Sono interventi urgenti, noi abbiamo avuto ieri un incontro come Ati alla prefettura per poter discutere di questi interventi straordinari che devono essere posti in essere dal gestore. Abbiamo domani un consiglio direttivo Ati, ma è evidente che il gestore deve fare questi interventi subito, conti a farsi, ma intanto subito. Dopo la città di Sciacca, il presidente Nello Musumeci si è spostato a Ribera dove ha incontrato all'interno del palazzo municipale una folta delegazione di sindaci del comprensorio. Un territorio dove il maltempo dei giorni scorsi ha arrecato danni ingenti soprattutto all'agricoltura e alla viabilità rurale, spazzata via dalla furia dell'acqua. Non esistono più le strade per accedere ai terreni e alle aziende, ha dichiarato Carmelo Pace a nome del comprensorio. Sindaci e amministratori hanno individuato come priorità gli interventi da realizzare sul fiume Verdura. Sono qui per capire quali sono gli interventi urgenti da realizzare e invito i sindaci a inoltrale alla regione attraverso la protezione civile le relazioni dettagliate con l'elenco dei danni, ha detto Musumeci. Ben ritrovati, sulle terme in molti hanno fatto campagna elettorale, noi stiamo intervenendo per risolvere il problema. Lo ha detto Nello Musumeci a margine della sua visita odierna a Sciacca. Sentiamo l'intervista. Mi rendo conto che Sciacca per il suo peso, per la sua storia, per la sua tradizione, per la sua importanza abbia molteplici problemi, a cominciare da quello delle terme sulle quali in molti hanno fatto campagna elettorale negli ultimi dieci anni. Anche quello è un tema che abbiamo affrontato e stiamo affrontando con l'assessorato all'economia e alla finanza per trovare la soluzione migliore e recuperare questa struttura immobiliare e un servizio di grande qualità che faceva di Sciacca una città specifica rispetto alle altre. L'immaginazione è che si vada troppo lentamente? Non è che si va troppo lentamente. La verità è che vorremmo fare tante cose in un giorno e le risorse umane a disposizione sono assai limitate. Voi non immaginate che tipo di regione abbiamo trovato. Non avete idea, la demotivazione, il personale spalmato male, in maniera irrazionale, spreco di risorse, conflitto di competenze, le norme che non stanno certamente dalla nostra parte. L'impegno che posso assumere è che nello spazio di un anno, datemi un anno di tempo, recupereremo dieci anni di arretrato. Si può dire che entro un anno si potrà avere la riapertura delle terme? Non dipenderà solo dall'ente pubblico, come è facile immaginare. Le terme vanno affidate a mani sicure, serve solidità, serve capacità gestionale e quindi sarebbe azzardato da parte mia dire che riusciremo entro un anno a poterle attivare. Dipendesse da me vi direi fra un mese. Io credo che l'incontro col sindaco che cominceremo a fare la prossima settimana con l'amministrazione comunale servirà a mettere a punto una serie di problemi che voi e io abbiamo ereditato e che dobbiamo affrontare uno per uno. In ogni parte della Sicilia ci sono centinaia di problemi che potevano essere affrontati e risolti e purtroppo certa politica e certa burocrazia non hanno consentito che ciò avvenisse. Io non sono abituato a fare promesse gratuite e per i miracoli, credetemi, sto cercando di attrezzarmi, sto anche tentando di fare un bando, non faccio molta illusione sui risultati, ma vi assicuro che è mio dovere, mio intendimento, oltre che mio piacere poter assicurare a Sciacca la soluzione almeno dei problemi più gravi. La Lega di Salvini approda ufficialmente a Sciacca. È stato costituito il circolo ed eletti rappresentanti locali del movimento politico. Abbiamo intervistato il presidente Vincenzo Catania. È stato costituito anche a Sciacca il circolo della Lega per Salvini Premier. È presieduto da Vincenzo Catania, vicepresidente Salvatore Novara. Del gruppo dirigente fanno parte anche Giuseppe Friscia, Pippo Sant'Angelo e Lorenzo Capodici. La Lega in questi anni è un partito che sta cambiando. È un partito non più territoriale prettamente del nord, ma un partito nazionale a tutti gli effetti. Di conseguenza contiamo anche di essere presenti su quello che è il nostro territorio. E' a seguito di alcune riunioni avvenute con il coordinatore provinciale Massimiliano Rosselli, con il responsabile territoriale Igor Gerlanda. Abbiamo deciso di essere presenti anche sul territorio di Scienze, che peraltro esce da un ultimo risultato elettorale, che è quello di 700 voti. Quindi non vogliamo disperdere questo risultato, anzi vogliamo incrementare, sia i voti, ma anche il consenso territoriale agli appartenenti al gruppo e al circo della Lega Salvini per Sciacca. Si parte da questi 700 voti che le ricordava le regionali, ma il vento è a vostro favore. Però ricordiamolo che la Lega è nata anni fa come partito del nord, che tante brutte cose ha detto verso questa zona della Sicilia, che adesso si riscopre leghista invece. Sì, senza dubbio la Lega nasce del nord, detto tante cose in passato, ma appunto già, come potete vedere, non c'è più la scritta nord. La Lega è un partito prettamente territoriale, quindi molto attento a quelle che sono le vicende sul territorio. L'attenzione che noi vogliamo porre è proprio sul territorio di Sciacca, vogliamo essere presenti. Considerate che lo scenario politico italiano è molto cambiato da alcuni anni fa. È cambiato molto e Salvini, il nostro leader, se ne è accorto. Quindi vogliamo essere presenti su tutti i territori, perché non è solo il nord, ma è l'Italia intera che chiede determinazione, che è quella che Salvini ha dimostrato e sta dimostrando di avere. Su temi che hanno facile presa nel cittadino, deriva anche da questo il consenso, quello di trattare problematiche che vanno a chiamare in causa anche le paure dei cittadini. popolisti, e questo è il termine che ricorre definendo i leghisti. Lei cosa sente di rispondere a proposito? Io sento personalmente di rispondere che è arrivato il momento di pensare prima agli italiani. Gli scenari appunto sono cambiati. È impensabile di poter aiutare qualcun altro, se prima uno non riesce ad aiutare se stesso, la propria famiglia. Quindi, ok, l'accoglienza, però deve essere un'accoglienza gestita, un'accoglienza ordinata, e non così come è avvenuto negli ultimi anni. Senta, lei diceva poco fa che il nostro obiettivo è chiaramente quello di crescere a Sciacca. Si parlava già da tempo della costituzione di un circolo in città, e anche dall'adesione di noti esponenti della politica locale. Si avranno a breve quindi novità in tal senso? Sì, penso proprio di sì, perché è quello che è l'andamento del partito, comunque come è evidente, cresce sul territorio di Sciacca, cresce in tutti gli altri territori della provincia, della Sicilia. Sicuramente le porte sono aperte, valuteremo caso per caso, perché vogliamo dare una nuova immagine alla politica. La Lega non era presente prima in Sicilia, adesso lo sarà, ma vogliamo dare appunto una nuova immagine, una nuova immagine della politica e del partito. Per quanto riguarda la rappresentanza in Consiglio Comunale, al momento non c'è, è chiaro che però sarà un vostro obiettivo? Sì, sicuramente, sicuramente valuteremo, come l'ho detto prima, caso per caso, eventuali rappresentanti in Consiglio, se ce ne saranno. Ci sono già delle disponibilità? Guardi, per quanto riguarda noi ci riuniamo, discutiamo tutti insieme e decidiamo tutti insieme. C'è un direttivo e c'è per questo, e faremo così. L'obiettivo è quello di aumentare la propria rappresentanza in città e il momento è più che favorevole. E il consigliere Calogero Bono è il protagonista della nuova puntata dell'ospite, la trasmissione di Maria Genuardi, in onda oggi alle 15 sulla nostra emittente. Ascoltiamo alcuni frammenti della trasmissione. Nuova puntata dell'ospite oggi su Telemonte Cronio è il protagonista della trasmissione di Maria Genuardi e il consigliere comunale Calogero Bono, ex presidente del Consiglio comunale, candidato a sindaco alle amministrative del 2017. Da una un'e mezzo si trova a svolgere il ruolo di consigliere di opposizione e lo sta facendo con particolare vehemenza nei confronti del sindaco Valente e dell'amministrazione di centrosinistra, sottolineando come gran parte dell'atteggiamento del centrodestra sì una reazione alle provocazioni della coalizione che governa la città, accusata di non avere in alcun modo voluto dialogare con l'opposizione. Questo sindaco, piuttosto che invece aprire alle opposizioni in virtù del fatto che non è partita con tutto quel consenso elettorale che avevano avuto i precedenti sindaci, invece passi il proprio tempo in questo periodo ad addossare le colpe alla precedente amministrazione. Il sindaco in realtà sostiene, questa è un'opposizione che sa solo criticare e che non avanza proposte, perché se da parte loro arrivassero delle proposte sostiene spesso, allora io sarei ben felice di accoglierle, di discuterle, eccetera. Delle due mena non si capisce come... Questa è l'ennesima bugia di Francesca Valenti, che l'abbiamo tra l'altro cantato nel corso di una conferenza stampa, perché è ad uso il sindaco di mistificare la realtà e raggirare molto spesso quella che è la verità che è sotto gli occhi di tutti. Le proposte ci sono state e ci sono state in Consiglio Comunale, fuori il Consiglio Comunale. In nessuna delle occasioni che l'opposizione ha presentato delle proposte, anche di carattere generale, l'amministrazione e la maggioranza consigliare le ha mai prese in considerazione. Vi faccio degli esempi. Vogliamo parlare della Commissione Terme, quando le opposizioni, prima 5 Stelle e poi anche il centrodestra, le chiedevano un tavolo tecnico, una cosa diversa. No, la maggioranza consigliare e il sindaco bisogna fare la commissione speciale, che ha avuto sì, ha svolto un ruolo sicuramente, però il tavolo tecnico, così come l'aveva pensato sia il Movimento 5 Stelle, sia il centrodestra che aveva da subito sposato l'idea, era un'altra cosa. E tutte le proposte che abbiamo fatto in occasione del bilancio di previsione 2018, tutte cestinate. Sul piano politico c'è la difficoltà a collocarsi e avere punti di riferimento all'interno del centrodestra. Il centrodestra vive un momento un po' particolare a livello nazionale, non solo a livello locale. C'è uno scenario, voglio dire, dove c'è un partito, la Lega, che la sta facendo da egemone, perché viaggia a numeri importanti, intorno al 30%, c'è un partito che è in grande difficoltà, che è Forza Italia, ma c'è nel centrodestra un'area moderata che in questo momento non ha una rappresentanza, voglio dire, politica. C'è ancora molto tempo, però, alla fine del mandato di questa amministrazione, se dovessero verificarsi le condizioni, se le venisse chiesto, lei sarebbe disponibile a candidarsi nuovamente a sindaco? No. Al momento? Mai dire mai, però. No, questo lo penso pure io. Lei lo esclude completamente? Lo penso pure io, mai dire mai, però mi sento assolutamente di escludere una mia nuova avventura in prima linea, cioè da candidato a sindaco. Una nuova specie di corallo è stata scoperta nel mare di Sciacca, a largo di Capo San Marco. Si tratta di una tipologia di corallo morbida, rivenuta dal sub-saccense Santo Tirnetta. La presenza di questa nuova specie è stata già documentata a Londra e approvata dalla Comunità scientifica internazionale, che ha pubblicato la notizia nelle riviste specializzate. L'auspicio sarebbe quello di istituire una riserva marina in zona San Marco per tutelare la specie e la biodiversità, presenta Sciacca, afferma ai nostri microfoni Santo Tirnetta. Adesso è ufficiale, la Comunità scientifica internazionale ha accertato la presenza nei fondali di Sciacca di una nuova tipologia di corallo più molle, denominato scientificamente paramuricea macrospina. Le foto e i prelievi per giungere a queste conclusioni, pubblicate oggi sulle riviste scientifiche, sono dell'esperto sub-saccense Santo Tirnetta, coordinato dal giornalista di Linea Blu Egidio Trainito, esperto di biologia marina. La scoperta è avvenuta quasi per caso, come racconta Tirnetta ai nostri microfoni. Praticamente nel 2014 avevo fatto queste fotografie, questi tipi di gorgonie che sono particolari nel nostro mare, fuori Capo San Marco, come zona che abbiamo individuato. Queste gorgonie poi, grazie ai social network, sono state viste da un giornalista appassionato di biologia, Egidio Trainito, che oltretutto è quello che lavora per Linea Blu sulla Rai. Da lì lui mi ha contattato e mi ha chiesto dove l'avevo trovata e in che zona, a che profondità, in che zona si trovava. Io gli ho chiesto perché, perché forse abbiamo avuto altri ritrovamenti, però molto più profondi e quasi sicuramente è una nuova specie di gorgonia che si sta sviluppando nel nostro Mediterraneo. Se gli facevo la cortesia di andare a fare dei prelievi, perché a livello scientifico, giustamente, loro hanno bisogno delle certezze, non soltanto di fotografie. Quindi siamo andati sott'acqua a prendere dei campioni di questa gorgonia, li abbiamo messi sotto spirito, sotto alcol, dentro delle provette e li abbiamo spediti a questo centro di ricerca, che oltretutto è internazionale, si trova a Londra, ed è quello che documenta e poi mette scientificamente i ritrovamenti a livello internazionale. Finalmente, a settembre di quest'anno, mi arriva questa notizia che, grazie a queste foto e grazie a questi prelievi che avevo fatto io, era ufficiale che questo era un altro tipo di gorgonia e gli hanno dato un nome particolare. Dicevamo che, ovviamente, non si tratta del corallo classico, per come siamo abituati a conoscerlo, ma di una tipologia più morbida. Sì, queste sono la famiglia delle gorgonie che, anche se hanno una struttura scheletrica simile al corallo, perché è la stessa famiglia del corallo, solo che il rubum, il famoso corallo rosso, sedimenta una struttura calcarea più solida, quindi più lavorabile, ecco perché ha un valore commerciale. Invece le gorgonie sono un po' più morbide e non hanno questa struttura così dura che da poter essere lavorate. Potrei dire per fortuna, perché così vengono lasciate in pace, non avendo appunto un valore commerciale. Stiamo parlando di una secca che è fuori Capo San Marco, stiamo parlando quasi due miglia fuori Capo San Marco. Ha una profondità che varia dai 40 ai 45, fino ad arrivare sul sommo di questa secca che arriva a 33 metri, che è stato il punto dove più rigoglioso queste gorgonie crescevano, anche belle grandi. Il corallo classico durante questa immersione l'avete più rintracciato, diciamo, si sta ricostituendo? Che buona sappiate! Sì, il corallo purtroppo subisce sempre un processo di continua ricerca per dei prelievi che sono quelli che servono poi per creare i gioielli e quello che servono. Nelle aree marine protette sicuramente si sta facendo molto, ma molto di più rispetto a quello che si può fare in un mare dove non viene tutelato, perché nel corallo fuori le secche di sciacca, un po' più lontane sicuramente, il corallo c'è, c'è sempre stato, la storia ne ha sempre parlato. Esiste sia quello fossile che anche quello vivo, cioè quello che ancora continua a crescere. Purtroppo la sua crescita è talmente poca, talmente poca all'anno, che se non si dà la possibilità di potersi sviluppare si verrà a estinguere sicuramente. Quindi l'unica zona, l'unica cosa che si potrebbe dire è che siano benvenute le aree marine protette, perché sono ormai l'unica fonte che sta creando e sta permettendo al mare di ripopolarsi per come era prima il nostro Mediterraneo. L'exio magistralis dell'assessore regionale Sebastiano Tusa sulla figura dello storico Tommaso Fazzello ieri alla chiesa di San Domenico, assessore che ha accolto l'occasione per fare il punto della situazione sulle strutture museali presenti a Sciacca. Annunciato a breve è l'ampliamento del Museo del Mare attualmente presente al complesso monumentale che porta il nome proprio di Tommaso Fazzello. Due nuove sale espositive saranno inaugurate anche al Museo Scaglione. Si è parlato infine dell'apertura tra alcuni anni del Museo di Sciacca al complesso di Santa Margherita. Il punto è questo servizio. L'exio magistralis dell'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa sul ruolo di Tommaso Fazzello nella storiografia siciliana ieri pomeriggio alla chiesa di San Domenico. Un'iniziativa promossa dal comune di Sciacca assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca Aurelio Cassare e con l'associazione Amici del Museo del Mare Vincenzo Tusa. Dopo diamo voce libri all'interno della sede monumentale della biblioteca con la lettura di alcune pagine della storia scritta da Tommaso Fazzello ieri si è voluto ulteriormente approfondire la figura dell'illustre storico Saccense. Intervenuti ieri all'Alexio magistralis anche Gabriella Costantino della soprintendenza ai beni culturali di Agrigento e l'architetto Michele Benfari. È stata anche un'occasione per parlare dello spazio espositivo presente all'interno del complesso monumentale che porta il nome di Tommaso Fazzello dove attualmente ha trovato ubicazione nel Museo del Mare. Una presenza di battuta quella del museo in quei locali ma che come già anticipato tempo fa potrà usufruire di nuove sale espositive. Ieri Tusa ha dichiarato che potrebbero essere inaugurate a breve forse entro la fine del mese. Ed è stato fatto il punto della situazione anche sulle altre strutture museali di Sciacca annunciato infatti anche l'ampliamento del Museo Scaione che potrà utilizzare altre due stanze. Ci sarebbe poi anche la possibilità ma in questo caso nei prossimi anni di completare il progetto riguardante la realizzazione del Museo di Sciacca all'interno del complesso monumentale di Santa Margherita riguardo il quale Tusa ha dichiarato con entusiasmo la prospettiva è quella di recuperare il grande sogno di tutti noi non solo dei saccensi ma anche dei siciliani e cioè di realizzare il grande museo all'interno del complesso di Santa Margherita dove andrebbe in esposizione anche la collezione della famiglia veneroso di Sciacca Nuova missione in Africa del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo e dell'associazione Acquore Aperto ne parliamo in questo servizio Continuano senza sosta anche in Africa le attività di volontariato dell'associazione Acquore Aperto Nuova missione della Onlus siciliana preseduta dal cardiochirurgo egrigentino Giovanni Ruvolo che da 14 anni collabora di Polgolo nella regione di Iringa con le suore della comunità cristiani del mondo Il progetto Un Cuore per Ipogolo prevede assistenza sanitaria ai più bisognosi sostegno all'istruzione e alla formazione adozione a distanza sono tre i medici impegnati negli screening cardiologici che vengono svolti prevalentemente nel dispensario di Ipogolo Insieme al professore Ruvolo ci sono il cardiologo Paride Giannantoni e il cardioanestesista Andrea Farinaccio A seguire personalmente i progetti legati alla formazione scolastica e professionale Margherita Laroccaruvolo, sindaco di Montevago Gli altri volontari partiti alla volta dell'Africa svolgono animazione per bambini Si tratta di Lara Pasquali Lillo Restivo Mattia Perri Amedeo Vaccaro Insieme al gruppo di Acquora Aperto Don Saverio Pititteri cappellano dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che da anni fa la spuola tra la Sicilia e la Tanzania dove sta seguendo tal'altro i lavoli per una nuova scuola materna Oggi più di prima, afferma il professor Ruvolo riteniamo importante aiutare le popolazioni africane soprattutto a casa loro ed è per questa ragione che da 14 anni facciamo la nostra parte in Tanzania contenti di poter aiutare anche poche persone a riscattarsi nella propria terra e a non sentire la necessità di emigrare verso l'Europa dove l'immigrazione di massa sta provocando tensioni sociali e politiche non indifferenti se la gente riesce a stare bene nella propria terra non sente la necessità di fuggire alla ricerca di un futuro migliore il professore Ruvolo evidenzia il contributo dato in questi anni da tanti volontari e benefattori che hanno consentito all'associazione a cuore aperto di svolgere le attività sul fronte della promozione della salute e della formazione alle professioni sanitarie il cardiochirurgo riberese evidenzia infatti come in questi anni sono state garantite cure a centinaia di malati bisognosi e si è stata data la possibilità di studiare a 200 giovani alcuni dei quali sono già diventati medici e infermieri e a loro volta stanno contribuendo a migliorare i servizi sanitari in una terra che tra enormi difficoltà in questi anni sta facendo significativi passi avanti anche se ancora c'è moltissimo da fare adesso la rubrica il libro del giorno è nell'intreccio serrato dei rami che compongono l'albero della storia che possono esplodere le scintille trapassate e presente soffermandosi su figure centrali come Robespierre, Gramsci, De Gaulle passando dai drammatici giorni del luglio 43 che videro la caduta del duce alla nascita dello Stato di Israele dal processo a Socrate fino ai rapporti fra il papato e Lutero Paolo Mieli ci propone in queste pagine un viaggio avvincente e rigoroso nella storia antica e recente italiana e internazionale per sfatare falsi miti e incongruenze di giudizio alla luce di documenti inediti e proporre visioni spesso alternative a quelle ufficiali con la forte consapevolezza che le fiamme che ogni giorno divampano fra le fitte stoppie della storia devono essere domate che i focolai accesi spesso colpevolmente non si estingueranno se non mettendo in campo tutto il rispetto per il passato e per la sua complessità Lampi sulla storia di Paolo Mieli, Edito Rizzoli E presentazione del libro Il vero falso del falso vero di Leonardo Nicolosi di Manuela domani alle 18.30 al Circolo di Cultura un'iniziativa della sezione di Sciacca della FIDAPA tema trattato il falso d'autore tra arte, monete e bufale tra i relatori l'onorevole Calogero Pumili e il giornalista e musicista Mario Colletti il veterinario Salvatore Pumili e l'architetto Salvatore Turturici E con questa notizia si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti